Padre Calandra, oggi è la festa di San Michele, dopo due anni finalmente torna la processione, non oggi ma domenica. Sì, dopo questa pausa forzata a causa della pandemia, riprendiamo la processione in onore di San Michele che si svolgerà, come le diceva, domenica prossima, subito nel pomeriggio alle ore 18 e poi subito dopo la celebrazione della Santa Messa. Oggi invece, giorno proprio della festa di San Michele, vivremo un momento forte di fede con la celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari e del popolo di Dio. Una celebrazione, una festa che è stata anche preparata da una novena in cui ci siamo lasciati anche guidare dalla parola di Dio spezzata da diversi sacerdoti che hanno presieduto la celebrazione eucaristica e che si sono resi presenti in questa nostra comunità dando anche un valido contributo. Noi parliamo della processione come di un fatto normale, scontato, eppure ci è voluto un po' di organizzazione, superare non poche difficoltà, le modalità saranno quelle che conosciamo, anche il percorso? Sì, per me innanzitutto è il primo anno che vivo questa esperienza e quindi mi sono lasciato guidare anche dai miei collaboratori, dai miei parrocchiani. Il percorso è sempre lo stesso che ormai la gente conosce. L'organizzazione, insomma, per mettere su una processione oggi non è molto facile, non è molto semplice a causa di tante autorizzazioni, di tanti permessi che giustamente occorrono anche per garantire l'incolumità di chi partecipa a un evento pubblico quale è quello della processione. Lei ricordava da un anno che sono alla guida di questa parrocchia, una parrocchia molto vasta, ma possiamo tracciare anche un bilancio? Io il bilancio lo farei tracciare ai parrocchiani. La parrocchia è vera, non è vasta per quanto riguarda i confini geografici, ma abbraccio un po' tutta la gente di Sciacca perché vedo che c'è un legame forte con questa comunità, con questo quartiere, con questa parrocchia e quindi è un punto di riferimento un po' per tutti, in modo particolare per esempio per le celebrazioni dei sacramenti, c'è questo continuo riferimento alla parrocchia di San Michele e quindi rende un po' la vita di ogni giorno abbastanza vivace. Diamo appuntamento quindi a domenica? Diamo appuntamento a domenica alle ore 18 qui in chiesa per la processione, ma diamo appuntamento anche per oggi pomeriggio, festa dei Santi Angeli Michele, Raffaele e Gabriele per la celebrazione eucaristica, ne approfitto anche per fare gli auguri a quanti portano il nome di Michele, di Gabriele e di Raffaele, con l'impegno anche di imitare le virtù dei Santi di cui portano il nome.